Di nuovo insieme in diretta e ci ha raggiunto nei nostri studi l'ospite di oggi che è Orazio Martino, lo vedete nel schermo alla mia sinistra. Ciao, buongiorno Orazio, ben trovato. Grazie, grazie. Orazio è codirettore artistico del Gargano Film Fest, un'importante iniziativa culturale che si svolge nella città di San Giovanni Rotondo da ormai 15 anni, quindi 15esima edizione per questo festival di cui Orazio ci dirà com'è nato, quali obiettivi si pone e quali sono le sue peculiarità. Perfetto, il festival nasce nel 2008 dalla volontà dell'associazione ApprovoCalt, è un'associazione comunque abbastanza attiva in Capitanata, con l'idea di sviluppare un festival che regalasse un po' di cinema fatto bene dall'indipendente al cinema un po' più mainstream al territorio della Capitanata. Ovviamente la nostra città è San Giovanni Rotondo, abbiamo deciso di realizzarlo e di svilupparlo qui, portando comunque ospiti importanti in questi anni. Abbiamo cominciato nel centro storico, ci siamo spostati nelle periferie, siamo rientrati nel centro storico, abbiamo lavorato e abbiamo fatto un'edizione durante la pandemia, quindi tutto rigorosamente online e in questi anni comunque abbiamo avuto delle bellissime location nel centro storico, location come il Parco del Papa che nonostante il fascino ci ha creato qualche problema logistico e quest'anno torneremo nel centro storico, nella famosa Piazza dei Mattias, conosciuta anche come Largo delle Monache e il festival si terrà il 28, il 29 e il 30 luglio. Lo stavamo vedendo anche dall'immagine della locandina ufficiale con i suoi colori molto accesi dove appunto si pone evidenza alle date del festival, della quindicesima edizione del festival del Gargano Film Fest e quindi come stiamo vedendo a tutto schermo 28, 29 e 30 luglio con partenza alle 20 e 30, come dicevi tu, da Piazza dei Mattias Largo delle Monache a San Giovanni Rotondo. Un evento che è l'evento di punta dell'associazione culturale Provocalt, come dicevi giustamente tu, un'associazione tra l'altro che è un lievito culturale prezioso per la nostra comunità perché tutto l'anno organizzate tante iniziative, quella del Gargano Film Fest è l'iniziativa più grande, probabilmente quella che coinvolge un po' tutto il territorio anche perché è un'iniziativa che si fa all'aperto e che valorizza tante location che in questi anni hanno ospitato il festival. Poi l'estate è la stagione per eccellenza in cui poter coniugare il cinema all'aperto, non solo film però perché vi siete contraddistinti anche per dare tanta importanza ai cortometraggi. Certo, certo. Quest'anno innanzitutto il tema sarà Facciamo Centro, come potete notare dall'hashtag, vuol dire un ritorno nel centro storico dopo due edizioni al Parco del Papa, quindi in periferia a San Giovanni Rotondo. Quindi l'idea di centralizzare il tutto e di tornare, diciamo, un pochino, tra virgolette, alle origini nel nostro centro storico, a largo delle Mattias. Provo corto quest'anno la quindicesima edizione, quindi viaggio in contemporanea con il festival, non sarà più un concorso ma sarà un premio, una sorta di rassegna su dei cortometraggi a livello nazionale scelti da noi con degli specialisti e degli esperti del settore. Si svilupperà durante la terza sera, quella del 28 luglio. Beh, è giunto il momento allora, ecco, se credi di iniziare a svelare qualche dettaglio della quindicesima edizione. Certo, certo. Mi sono sbagliato. Provo corto 30 luglio, l'ultima serata. La prima sera invece avremo uno dei film di punta a livello nazionale e soprattutto con un accento sulla capitanata di questi ultimi anni, Che ti mangio il cuore, di Pippo Mezzapesa e ci sarà anche Pippo, quindi ospite con noi al festival durante la prima serata del 28 luglio. Invece il 29 luglio, la seconda sera, avremo Mixed by Harry, che è un film di Sidney Sibilia, famoso per la trilogia Smetto Quando Voglio, un film ambientato a Napoli negli anni Ottanta e racconta la storia, praticamente, dei primi pirati musicali italiani, Fratelli Frattasio. E avremo, non il regista, ma avremo lo sceneggiatore, un gran bel personaggio che si chiama Armando Festa, avremo l'attore principale del film, Luigi Doriano, e avremo anche la scrittrice da cui il film è stato tratto. La scrittrice che ha scritto il libro, da cui poi è stato tratto questo film, Simona Frasca, che è stata anche la cosoggettista del film, quindi tanta carne al fuoco durante la seconda serata. L'ultima serata, invece, sarà dedicata a Provo Corto, quindi proietteremo questi sei cortometraggi, proietteremo e premieremo questi sei cortometraggi, con una giuria tecnica, ovviamente, all'altezza anche quest'anno, e di contorno ci saranno incursioni musicali, incursioni tragicomiche, incursioni di qualsiasi tipo, e intrattenimento fatto bene, insomma, come piace a noi. Un programma veramente molto ricco e molto bello, per un festival a cui si accede in maniera assolutamente gratuita. Assolutamente sì, l'ingresso è gratuito e ovviamente ci sarà sempre la possibilità di sostenere l'associazione Provo Corto, ma ci teniamo tanto che comunque la cittadinanza venga coinvolta e devo ammettere che comunque in questi anni i feedback e le risposte sono state sempre molto positive. Il Gargano Film Fest è sempre molto amato a San Giovanni Rotondo, ovviamente con l'obiettivo di portare, di arrivare anche a gente fuori dalla provincia. Assolutamente sì, anche perché fuori dalla provincia, magari anche fuori dalla regione, visto che da qualche tempo siamo meglio collegati con il resto del mondo, perché abbiamo l'aeroporto di Foggia che è tornato a volare, per cui vi aspettiamo numerosi a San Giovanni Rotondo, dal 28 al 30 luglio, nel centro storico di San Giovanni Rotondo, in piazza De Mattias. Orazio, concludiamo con una chicca se c'è o magari una peculiarità ulteriore che potrebbe spingere i nostri amici telespettatori a partecipare al festival, oppure facci semplicemente tu un invito a essere parte integrante di questa quindicesima edizione del Gargano Film Fest, l'evento di punta, abbiamo detto, dell'Associazione Provocalte. Certo, noi siamo sicuri di sorprendervi anche quest'anno, con il nostro programma non solo, ripeto, cinematografico, ma molto variegato, quindi lasciatevi sorprendere, ci saranno tantissime novità, tantissime incursioni, tantissime sorprese, sempre a livello artistico, anche l'ultima sera avremo un ospite da Foggia molto interessante che si chiama Rucola, che farà uno spettacolo di giocoleria di trampoli, è un'artista affermata a livello nazionale. Vi svegliamo anche che la prima serata presenteremo una bellissima rivista della Capitanata che si chiama Diomede e verrà il suo direttore, il grafico, per farci una bella chiacchierata sul nostro palco. Molto bene, programma davvero ricco ed estremamente interessante. Io vi invito a seguire il Gargano Film Fest anche dalle pagine social e dal sito internet dell'associazione e magari ci sarà anche una pagina dedicata al Gargano Film Fest sui social. C'è la pagina Facebook Gargano Film Fest Provocorto, mentre su Instagram ci potete seguire come Associazione Provocalte. Perfetto, in maniera tale da rimanere sempre aggiornati sulle iniziative di questa associazione meravigliosa che produce tanti eventi culturali di valore sul nostro territorio e per entrare in contatto con loro scrivendo anche un messaggio alle pagine social o all'indirizzo mail presente sul sito, in maniera tale da ricevere tutte le informazioni necessarie per poter partecipare al Gargano Film Fest, quindicesima edizione di questo 2023. Orazio, io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi per il prezioso spazio. Grazie. Buon lavoro e buon Gargano Film Fest. Grazie. Grazie. Grazie.